Un pomeriggio di febbraio, aprendo il registro elettronico, è sbucato uno strano compito, cercare un tesoro. Allora andiamo! Ci siamo incontrati prima alla chiesetta, poi abbiamo trovato gli indizi che ci hanno condotto alle tappe successive. Abbiamo percorso il centro storico di Pratola Pellin. Pratola Pellin Siamo giunti alle cappelle note al paese come le Sette Marie. E' un sito chiuso al pubblico, ci ha aperto il parroco, abbiamo scoperto le terracotte e gli affreschi cinquecenteschi. Abbiamo trovato il tesoro nel pertugio segreto dell'altare. Sarà un premio? Soldi? Gioielli? No, neanche un rattevinci. Il premio era uno specchio. Il tesoro siamo noi, custodi del passato e costruttori del futuro. Per far conoscere le cappelle abbiamo creato un sito internet. Abbiamo posto un QR code all'esterno che rimanda al sito per i visitatori che trovano chiuso. Usiamo al meglio le nuove tecnologie. Grazie. 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 Grazie.